Salve a tutti quanti signori e ci ritroviamo in un nuovo episodio di Maison House qui in compagnia di Richard Sempre pronti a sfidare la morte e il destino In questo episodio dovremo vedere come boss il ragno e anche forse Aerobrine già Ah la bellissima Aerobrine House Ok, andiamo Allora, se non ricordo male il ragno si dovrebbe trovare al terzo, secondo, sì secondo piano, no terzo Sei in visione far? Visione genius Rendering Poi, hai grafica veloce o sofisticata? Non so se fa o meno, ma fa quello che vuoi con quella Per il resto non ricordo cosa può far meno laggare Io non ho mai problemi personalmente Non lo so, io non ce l'ho Mi sa, credo Video, visione oscillante on Io ce l'ho Andiamo Prova E prova, non si sa mai Ok, ora A me no personalmente, io non ho problemi Gravi, a me no Adesso vediamo un po' se con gli zombie avrò problemi, però Proseguiamo con Non c'ho più niente addosso, davvero Ah, ah, oh mio dio, aiutami, aiutami Che bello Che bello Questa pioggia, secondo me è la pioggia che magari ti fa laggare Ah, sei stato ucciso Sì Non ho idea, perché questa qui essendo un adventure map Mi pare che siano bloccati Quindi non siano utilizzabili Perché sennò tipo potresti cambiare Tipo creativa, robe varie Adventure No No, se è bloccato il comando per farlo Ma proprio Boh, non lo so Ma probabilmente Era in precedenza Perché un tempo si poteva fare Non mi pare fosse Non mi pare fosse Un adventure Adesso tipo Qui c'è un enderman Mi sta antipatico Mi servono le ceste a me Non mi toccate Non mi toccate Ah Via, via, via Essere maligni Via Oddio Oddio, no Oddio Oddio Oh mio dio Perché rinasciamo Tre chilometri più lontano Oh lady Oh Hai tre palle di diamante Me ne dai uno magari Spegga No Sei uno stronzo Vabbè Gentilissimo Non ce l'ho mai avuto il posto Anzi no In verità io ce l'avevo Ma era solo uno E ce l'avevo già addosso Quindi Forse Credo Torniamo a dove ero morto Qui quindi Vabbè Mi ha dato qualcosa Quello Ecco Crepa Qua è una mano Vabbè Ormai sei morto Quindi la mano Non ti serve più Mi dicono Però Allora Qui Cosa c'è Ingordo Sei un ingordo Punto Oddio Oh Dammi i gambali Dammi te Gambali Give me your No non ce l'ho Quello in diamante Ah no Forse che ce l'ho Sì Degli stivaletti In diamante Vai 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 Un pezzo in più Aggiungiamo Poi qui c'è la piscina Bellissima In cui i zombie Fanno party Ecco qua c'è il ragno Ecco qua c'è il ragno Scrivono quelli Qua cosa c'è Interessante Interessante Sì Andiamo a uccidere Lo Sì Lo scherbero Eeeh Lo spider Non ricordo Se nelle ceste Dello Qui c'era qualcosa Niente 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 Ma sì Cosa Scusa Non ti capisco Guarda Eeeh No Non sono per niente Contrario Da come lo dico Capiscimi No Non è che Non Oddio Oddio I mignon I mignon Oh mio dio Oh mio dio Come hai fatto A settartelo Sei un idiota Perché Ah è vero Giusto Che stupido Che sono Ci sono i letti Lì sopra E si invati Avevo dimenticato Allora Allora Adesso mi segno anch'io E rispawn Che se non i vol Lag Che sono ogni volta Ah questo qui E' questo Perfetto Alzati dal letto Eeeh Spider Diamine Sì Vengo Aspetta che però Ah Minion Fang Oh dio Oddio Oddio il pigman No No Ero in una stanza di fianco a te Che c'è il pigman Oddio devo chiudere le porte Che sennò ci uccide Bene Sistemato Qua dentro Non c'è niente Niente L'ho sistemato Vai tranquillo Perché Non riuscirai mai Non riuscirai mai Ad ucciderlo Ok Ce l'ho io davanti Aiuto Oddio 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 Sì vabbè ma se i miniomi passano sotto le gambe Dove sei dannato Esci fuori mostriciattolo Che bello il lag Adesso ti proprio perderò 666 quari Oh Ecco infatti Sto ancora laggando Grazie a dio Sì l'ho dato il signore Andiamo un po' Se lo scrivo Ok Dovrebbe essersi ripresa la connessione Sì Meno male Oddio Oddio Che luck No L'ho ucciso io Non lo so Lo stavo cercando anch'io Sento il mini zombie Ma non vedo il pigman Aspetta non ero in questo stand Ah vabbè Non ero in questo stand No non ci sono più Quindi sono qua Ah Oddio 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 Che bello Morirono i 4 E mi lagga E mi lagga Mi mi lagga Si Parapam paramparamparamparamparamparamp Oddio 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 Ok ho ripreso la connessione Dammi il tuo corpetto in diamante Dannato Non ti chiedo molto Stammi lontano mostro Ah Stammi indietro Stammi indietro Oddio Quanto li odio Questa qui di cos'è Possione di corrigione Rigenerazione Non c'è niente di meglio Rapidità Rapidità mi piace E sfrecciamo Bevila E sfrecciamo Oh mio dio Figata Vado più veloce del fulmine Che bello Lo vedo nel pavimento Si però se non mi abbandoni Nel momento del bisogno Mi fai un favore Guarda E perdo la mia velocità Che bello Ti hanno ucciso Si Si Adesso tipo Spaccheranno la faccia a me Per 666 volte Per 666 volte Tipo vedrò Cristalius E infatti Ma il bello è che a me lagga talmente tanto per colpa tua Che Tipo non vedo i mostri Stanno ancora lì ad ucciderti E poi vedo Perdo 666 cuori Vado in debito di cuori E mi dice Cristalius è morto Ok Dove sei? Va bene Io ti aspetto All'entrata De quel tizio Si del tizio Però timore che mi stia seguendo Si Barbone Oh Il corpetto è mio È mio Ladro Ridammi quel corpetto Immediatamente Dammi Quel No No Stai zitto Non l'hai ucciso Guarda Anzi Muori Adesso muoio anch'io Dammi quel corpetto No Voglio il corpetto Si L'ho preso Mi sa Aiutami Non stare A guardare Fermo Immobile Almeno si Collag Però No No Non in questa direzione Idiota Me lo spingi in avanti Ah Oddio Oddio Sei un ladro Hai preso le pepite Stronzo Andiamo Andiamo a uccidere Quel ragno Va Prima che ti stacco La fa Oddio Oddio Cosa vuole anche questo Nascosto dietro l'angolo Lì Dan Danh 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 Alla Sì, sei morto No Stai fermo Non ti muover più di dove sono io, Riccardo Mi sa che ho scoperto un trucco tremendo Per uccidere il pigman Guarda che lo sto uccidendo E da qua lo possiamo uccidere senza problemi No, no È mio Oh, quest'oltre le pepite le ho prese io Eh? No, la spada no, non me l'ha data Però se questa qui te la dà, te la do Ah, mi ha dato il Eh, viva, mi ha dato il co Il, sì, il corpi Mi ha dato tutto, ho tutto, bene Sono tutto spadaten Spada Eh, boom I ricambi pronti all'uso Eh, dobbiamo andare ancora un pochino avanti di qui E poi dobbiamo girare di qui E poi di qua Sì 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 You can use your weapon to cut the spiderweeps Ok Sei pronto? Cicca ciao E cicca ciao Che bello Sono già finito nelle ragnatele Vaffanculo Vaffanculo Oddio Luggan Luggan Scheizen Ah, lag Sono troppi Sono troppi Sono troppi No, no Ah, forse sì Di già 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 Che è uscito il boss Che schifezza ah si è vero perchè il boss era più grande degli altri me la allontani? che io devo riprendere una ah! una rigenerazione devo riprendere allontanamela allontanamela tienimela lontano ah! ah 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 grazie sei sempre di aiuto guarda è una fantastica oddio ma perchè sono qua? perché perché no forse non sono qua in effetti non credo no 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 non lo so io non ci sto più capendo niente guarda gli occhi verdi? guarda che un po' tutti hanno gli occhi verdi no ma quanto bene abbiamo già finito che dici di fare? sì bene e dunque questa puntata si conclude qui purtroppo ma non disperate perchè ci vediamo nel prossimo episodio di Erobrine Mason è